Dopo l'ennesima lita in famiglia scattano le manette ai polsi di un uomo di Ascea, accusato di violenze e maltrattamenti continui nei confronti della moglie. Il marito violento è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Ascea, coordinati dai loro colleghi della compagnia di Vallo della Lucania. Una situazione che andava avanti da tempo e che è stata fortunatamente stroncata dall'intervento dei militari dell'arma. E da pochi chilometri da Ascea, in località Velina di Castelnuovo, Cilento, sono stati ritrovati due ordigni bellici rinvenuti in un terreno. Sono stati alcuni operai del consorzio di Bonifica Velia che stavano effettuando dei lavori in zona a fare la scoperta. I due ordigni erano in parte interrati, si presume si tratti di bombe della Seconda Guerra Mondiale. Del caso sono stati immediatamente informati i carabinieri della stazione di Vallo Scalo, quelli della compagnia di Vallo della Lucania e di vigili urbani di Castelnuovo, Cilento. Nelle prossime ore, in seguito ai sopralluoghi degli artificieri, verrà stabilita la pericolosità degli ordigni e si valuterà la modalità di rimozione.